Mister, anche oggi si è visto una squadra che gioca, gioca e ha moltissime soluzioni offensive. Cosa vi manca poi al di là degli infortuni dell'inizio di stagione per essere lì col Gozzano? Io lo dico, secondo me i punti che abbiamo in meno li abbiamo perché abbiamo avuto talmente tanti infortuni che abbiamo perso dei punti. Vedi Varese, che siamo andati lì con talmente tanti infortuni. Sempre infortunati. Anche durante la partita è venuto in direzione che si è fatto male. Quindi io sono convinto che se non avessimo avuto tutti questi infortuni non avremmo i punti di distacco dalla prima. Abbiamo avuto tanti infortuni però li stiamo uscendo bene, li stiamo uscendo da gruppo, da squadra e forse questo ci dà più dei punti per continuare a fare un gran campionato. Anche oggi poi hai dato un segnale forte, sull'1 a 0 hai messo il fiero, il messaggio era non fermiamoci e continuiamo a fare. No, ma la mia idea era di fare il secondo gol, perché assolutamente non potevi accontentarti di fare un gol e basta, perché poi c'è un calcio d'acqua, c'è un tiro da lontano, prendi 1 a 1. dovevi fare il secondo gol, assolutamente. Grazie. 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 Grazie.